Allora, i vostri nomi? Raffaele Ferdinando I nomi veri? Ti piace il cinema? Sì Ti piace il cinema? Yes! Allora, qual è il vostro film preferito? I due amici... Amici come noi? Amici come noi Tu te lo ricordi? Amici come noi Fatemi una parte del film I am... Golibari, 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 golibari